Ciao sono Luca e in questo video vedremo quanti giorni a settimana allenarsi per aumentare la massa muscolare ovviamente il tutto deve essere personalizzato e ovviamente in genere si parte semplificando al massimo come sempre al netto delle differenze individuali con almeno tre sessioni come sappiamo ogni sessione non deve andare oltre 60 minuti per un discorso di efficacia andare oltre non ti porta alcun beneficio maggiore e ulteriore rispetto per la singola sessione quindi semplificando al massimo parti con tre giorni a settimana dopodiché se riesci a fare di più sicuramente è meglio così passi a una multifrequenza cioè alleni ogni muscolo più di una volta a settimana cioè due ad esempio lunedì petto e tricipiti, martedì schiena e bicipiti, mercoledì le gambe con le spalle dopodiché giovedì petto e tricipiti e venerdì schiena e bicipiti in questo modo per l'appunto almeno per la parte alta fai una multifrequenza eventualmente potresti rifare le gambe a sabato ma non è esattamente necessario parentesi per quanto riguarda la divisione dei gruppi muscolari puoi anche utilizzare quella del metodo butterfly cioè giorno 1 petto e schiena, martedì spalle e braccia, mercoledì le gambe dopodiché giovedì petto e schiena, venerdì spalle e braccia provale entrambe o push pull legs oppure metodo butterfly dopodiché mantieni quella che senti al meglio e ripeto se di base hai non troppo tempo tre volte alla settimana 60 minuti super intensi, super efficaci se ne hai di più ovviamente aumenti e magari fai una multifrequenza per l'appunto oppure fai tre sessioni più dopo un'eventuale quarta sessione magari non so il venerdì ad esempio dove ripeti soltanto la parte alta così che magari in maniera un po' più compressa rispetto a fare diverse sessioni quindi fai lunedì petto e tricipiti, martedì schiena e tricipiti, mercoledì le gambe dopodiché venerdì magari la parte alta la ripeti due movimenti per ogni muscolo petto, schiena, spalle e braccia in questo modo almeno per la parte alta è una multifrequenza quindi come vedi il tutto deve essere sempre personalizzato però di base puoi partire così per avere ottimi risultati dopodiché sicuramente puoi andare al meglio in termini di aumento di massa muscolare anche tranquillamente a casa ti rimando agli altri miei video come sempre paradigma autoconsapevolezza e se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di personal trainer online ciao